allora salvatore esposito per l'ennesima volta sei alla mostra del cinema di venezia a pensare per l'ennesima volta mi intervistavi anche questo anche questo ogni anno questo è l'anno dell'ennesima esatto oggi è l'anno dell'ennesima e innanzitutto ma dieci anni fa t'avessero detto che tutti gli anni saresti stata la mostra del cinema come avresti reagito ma non ci avrei mai creduto anche perché così come quello che mi è accaduto nei miei dieci anni di carriera tutto quello che mi sta accadendo in questi anni è un'emozione costante una sorpresa costante quindi essere ogni anno qui o per presentare un progetto o per fare una master class un incontro qualsiasi cosa è sempre emozionante e poi come dicevamo anche l'anno scorso la tua bravura è proprio quella stessa da quella proprio di diversificare sia a livello di ruoli sia a livello anche proprio di passare dalla dalla citazione la scrittura quindi è importante diversificare per un attore soprattutto per non restare troppo legato sempre a quel ruolo ma in realtà io credo che molto sta all'abilità al talento alla bravura dell'attore anche perché se ci si affida semplicemente alle scelte produttive e registi che finiresti per fare o finirei per fare il cattivo a vita quindi tutte le mie scelte capitate dopo sono state esclusivamente volte a creare e cercare di fare qualcosa che potesse lasciarmi e lasciare al pubblico emozioni diverse contrastanti particolari non sempre le stesse io non mi ricordo se l'ho detto a te nelle svariate interviste ma io non vorrò mai essere ricordato come un attore banale un attore che passava in osservato sia nel bene che nel male voglio essere un attore che lascia qualcosa alla fine di un mio film alla fine di una mia serie o alla fine di un mio libro quindi vediamo se alla fine di questo lungo viaggio ci ci sarò riuscito ecco e quindi parliamo del perché sei qui allora tu sei qui per varie ragioni la prima è che terrai una masterclass con dei ragazzi quindi anche questo se te l'avessero detto non solo sarei a venezia ma terrei una masterclass che è un termine che suona altisonante ti fa pensare magari anche a qualche vecchio trombone a qualche star eccezionale cioè anche il fatto di poter parlare ai giovani beh sempre ti ripeto poi in un periodo come questo dire qualcosina in più qualche parola in più ai giovani è sempre interessante è sempre qualcosa per cui vale la pena esserci no ti dicevo è ogni volta è una sorpresa ogni volta è un'emozione nuova infatti io cerco quasi sempre di non preparare mai nulla per essere quanto più vero possibile per essere quanto più semplice possibile con con i ragazzi anche perché in una in un'epoca moderna così veloce così rapida rischi che che li annoi quindi io cercherò di essere uno di loro e questo spero mi aiuti e a proposito di giovani hai presentato proprio il finito commentario scritto dal tuo amico giovanni caccamo parola ai giovani e quindi raccontaci anche di anche quella è stata è stata un'esperienza un'emozione grandissima la nostra volontà era quella attraverso un manifesto moderno di dare parola ai giovani perché potessero comunicare col mondo esterno potessero comunicare con chi di dovere quelli che sono i disagi di questa epoca moderna quelli che sono le nostre voglie di cambiamento quelli che sono i nostri sogni ed è stato veramente bellissimo tra l'altro questo documentario poi ha fatto seguire un manifesto scritto dalla collaborazione con la treccani di cui la prefazione di papa francesco e la nostra volontà e credo che poi anche il mio messaggio è quella di dire diamo parole ai giovani ascoltiamoli ma fin da piccoli non li abbandoniamo a loro stessi anche perché poi si crescono e commettono degli errori commettono delle cose orribili spesso noi genitori spesso noi adulti dovremmo chiederci ma abbiamo fatto abbastanza abbiamo parlato abbastanza abbiamo siamo stati bravi abbastanza con questi con questi ragazzi ecco invece sei anche all'opera per scrivere quello che è il tuo terzo romanzo che va a chiudere la tua trilogia a che punto siamo con questo progetto e siamo in una fase media embrionale dovrebbe vedere la luce l'anno prossimo vediamo dipende anche dai miei impegni capiamo però la trilogia dello sciamano dovrebbe chiudersi per adesso il prossimo anno poi vediamo innanzitutto vorrei dare dargli una forma un volto un'anima cinematografica vediamo se ci riusciamo poi più orientato sul cinema o sulle serie in questo caso beh io ero ero più indirizzato verso le verso la serie ma credo che forse il suo habitat ideale il cinema vediamo è tutto così volubile repentino quindi vediamo vediamo e a proposito invece di serie adesso finalmente inizierai a girare il tanto atteso piedone quando c'è stato l'annuncio di questo del fatto della serie quando si va a toccare i miti inevitabilmente c'è sempre chi storce un po la bocca certo ecco ti preoccupa un po da un certo punto di vista il fatto di confrontarti con un mito come bud spencer per una una saga cinematografica con un successo ed è stata veramente amata da tutti guarda in realtà no perché in fondo non c'è nessun confronto perché quello che faremo noi con la serie che sarà una serie ambientata 40 anni dopo la fine dei film il mio personaggio sarà una sorta di figlioccio di quello che era il commissario rizzo quindi cercherà di essere semplicemente portatore sano di quei valori di quegli ideali ma poi sarà un personaggio completamente diverso quindi non c'è confronto il nostro sarà e sarà semplicemente un omaggio non solo a quell'attore ma anche a quel personaggio ea quei film con la speranza che i giovani di oggi attraverso la nostra serie possano innamorarsi anche loro e rivedere quelli che erano i film di quell'epoca ok e chiudiamo il sogno nel cassetto oggi qual è se avessi la bacchetta magica cosa vorresti fare o che ruolo vorresti interpretare o che regista ma guarda forse sto invecchiando nel senso che l'anno prossimo al 2024 saranno dieci anni di carriera e come ho già detto quello che ho ricevuto in questi dieci anni è stato molto ma molto di più rispetto a qualsiasi cosa io abbia mai sognato per la mia carriera quindi nasce me proprio il desiderio la voglia e la curiosità di capire che cosa mi riserveranno i prossimi dieci anni quindi vediamo va bene il frattempo nei prossimi dieci anni ogni anno ci troveremo qui a venezia guarda quello che posso dirti che proprio te lo dico così umanamente quest'anno il napoli mi ha regalato uno scudetto per essere i prossimi dieci anni se me ne regalasse altri dieci sarei ancora più contento magari dieci no magari potresti accontentati qualcosina di meno vediamo vediamo 9 9 8 va quindi sei speranzoso per questa stagione e per la nuova guida di garzia sì sì sono contento sono contento gli acquisti mi piacciono le altre squadre si sono rinforzate vediamo e spalletti nazionale spalletti un grande spalletti un grande farà sicuramente benissimo lucianone e lo speriamo tutti perfetto allora grazie e alla prossima ragazzi grazie